ecco il sale ok aspetta mettiti in seduto bene bene siti bene 1 2 ok bravissimo facciamo anche un po di verde bravo amore dai dai continuiamo dobbiamo prendere la matita bene così natale guarda viene meglio così natale guarda io intanto credo dai natale dai provo c'è anche tu bravo proviamo un po di rosso bravo vogliamo cambiare colore facciamo anche un po di azzurro guarda che cosa sto facendo dai che bello il tuo taglio è il colore di taglio del pullman blu come taglio si come taglio dai prendi il blu prendi il blu ok poggia questi questi metti di qua mettili qua poggiali tieni la mano nel foglio così e con questa coloriamo dai qua più vicino più giù così bravissimo così dai blu come blu come taglio si ci sei tu blu taglio si dai colora rosso 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 pericoloso no 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 non vai fare ridere dai 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 blu come taglio dai vuoi un altro colore proviamo a fare il rosa